Questa è una suite, il primo è un canto di una delle ultime cantorie dell'Appennino di Parma, è un diesire che era fatto appunto da questi cori maschili, utilizzato nel venerdì santo e nei funerali, lo faremo strumentale, a seguire il Val Suvie, che è una danza di origine diciamo polacca, che è stata portata dai dragoni di Napoleone, soprattutto in nord Italia, deriva da Varsovien, e a seguire sono danze antiche dell'Appennino reggiano e modenese, sono furlane e una piva, che era appunto questa danza fatta anche con la cornamusa, con la piva che sentirete in diversi brani questa sera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.